Di notte mi aggiro sui tetti e tra i vicoli, in cerca di giustizia. Cerca giustizia. Il diavolo custode. Avevo 12 anni quando persi la vista, ma ricevetti qualcosa in cambio. I quattro sensi che mi restavano si acuirono in modo soprannaturale. Sentivo un bespiglia un isolato di mia stanza, ma cosa più straordinaria. Spillipa è una specie di senso radar. Presto il mondo conoscerà la verità. Solo quell'uomo può cambiare le cose.